Onorevole, la meritocrazia entra di diritto nel corpus del PDL dopo queste parole di Alfano o c'era già? Si può sempre migliorare la meritocrazia, qualche errore è stato commesso, io condivido questa sferzata che ha dato Alfano al partito per rinforzare alcuni aspetti cruciali, avere una classe dirigente all'altezza della situazione, all'altezza delle sfide più difficili che ci troviamo ad affrontare, ogni richiamo alla meritocrazia mi pare che sia positivo. La gente l'aspetta? La gente l'aspetta, adesso bisogna trasformare le parole di Alfano in attività operative che permettano al popolo della libertà di diventare un partito candidato al successo delle prossime elezioni. Grazie.